Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo un'altra anticipazione per il prossimo campionato, quello del 23-24, la prima maglia dell'Arsenal in versione player. Grazie per la visione! Non è detto che questa sia la maglia definitiva, ma è straordinaria. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, veramente bellissimi i colori e la rifinitura in oro. Qui in alto vedete il costo? La maglia è fatta benissimo e vi ricordo che quel prezzo include anche le spese di spedizione, quindi fate voi i vostri calcoli. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime offerte che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, mi raccomando lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.